Quest'oggi è la presentazione di questo interessante progetto turismo itinerante Expo 2015 e da parte delle principali associazioni di settore delle quali lei è il presidente, per esempio l'Acti, c'è massima volontà di collaborazione. Sì, esattamente, come abbiamo avuto modo appunto di dire prima nell'intervento, noi abbiamo messo a disposizione dell'organizzazione creata e di questo evento creato da Luigi Boschetti che ringraziamo ancora perché è riuscito a mettere intorno a un tavolo praticamente tutto il nostro settore che conta e a mettere a disposizione appunto l'operato dei nostri club che stanno sul territorio, non solo di Lombardo ma di tutta l'Italia del nord e far fronte a questo evento che crea tanto aspettative. Come pensate di attivarvi? Abbiamo fatto delle proposte, innanzitutto vorremmo che se i camper, è vero che sono assimilabili alle autovetture, devono poter sostare in un parcheggio senza uscire dalle strisce, quindi diciamo che la legge dice questo e noi vorremmo che ogni parcheggio avesse anche una percentuale di strali a nostra disposizione.